L'ultimo dell'anno a Capracotta è terminato con la tradizionale fiaccolata a Montecampo, seguita dal brindisi in alta quota per salutare il vecchio anno. Centinaia di persone ieri all'imbrunire hanno preso parte alla tradizionale fiaccolata sulle pendici di Montecampo, che ormai si ripete da circa mezzo secolo. L'evento organizzato dal comune di Capracotta, dalla Proloco e dal CAI sezione di Isernia, ha portato tanti appassionati della montagna a Montecampo, 1750 metri, fino alla croce che è situata sulla vetta. Un evento che nonostante gli anni non smette mai di emozionare. Fin dalle prime ore del pomeriggio, a scaglioni o alla spicciolata, gli amanti della montagna salgono e affrontano l'erta in piena sicurezza. Quando vanno via le ultime luci del giorno si stappano spumante, si brinda all'anno che è andato via e a quello che entrerà. Si mangia il panettone, si scambiano saluti e auguri dall'alto dei 1746 metri della vetta più amata dai caprocottesi. Poi ognuno dei partecipanti con una fiaccola in mano scende verso il paese creando una suggestiva striscia di fuoco che viene ammirata anche dai cittadini che si trovano in paese. Il lungo serpentone di fiaccole che scende a piedi dalla montagna arriva al centro del paese dove ai numerosi ospiti che vi assistono è data la possibilità di scaldarsi al gran falò che brucia in piazza e con il vin brulé offerto a tutti. In tanti hanno trascorso l'ultimo dell'anno a Capracotta, uno scrigno che custodisce tradizioni senza tralasciare l'ospitalità e l'accoglienza della sua gente. Dopo la mezzanotte in tanti si sono ritrovati nella piazza principale per scambiarsi gli auguri e brindare al nuovo anno.